Ancora degrado immondizia per le strade di Torre del Greco, non migliora la situazione dei rifiuti del comune Corallino. Sono tante le segnalazioni dei cittadini che vivono una situazione di abbandono, soprattutto nelle periferie e nei vicoli meno trafficati che diventano spesso delle vere e proprie discariche a cielo aperto. È il caso della zona Porto, specialmente nelle traverse di Corso Garibaldi. Comuni di sacchetti di ogni tipo si possono trovare ad ogni angolo. Non aiuta che l'intera area sia fulcro della movida giovanile. Ogni sera i marciapiedi si riempiono di bottiglie di birra vuote, bicchieri di plastica e qualunque altro scarto dei giovani avventori. Altra zona critica è quella in via Cavallerizzi, che nonostante le numerose denunce resta ancora una vera e propria discarica, dove chiunque può andare a gettare rifiuti di ogni genere in qualunque ora del giorno e della notte. Restano inoltre le problematiche legate al conferimento degli ingombranti. Pezzi di mobilio e materassi fino ad elettrodomestici rotti fioccano sempre più evidenti in tutte le strade cittadine. Colpa ovviamente dell'inciviltà, ma il caos di inizio settimana con la temporanea chiusura del centro di raccolta ha creato non poca confusione, rendendo le stesse regole sul conferimento difficili da comprendere e rispettare.